Hai una storia che va di bocca in bocca entre los buscadores de oro e los marineros. Una isla in medio del mar. Allí si esconde un tesoro. Io sei come incontrarlo. E' vero quello che ti voglio dire. Sono Bregone. Come sei qua. Para incontrare il tesoro, hai che seguire al cangrego. Che stiamo facendo? Che il cangrego non smarca il cammino. La gente morbida, vede le cose. Vieni, voglio bene. Io c'ho intenzione serie. Quello annettante non ci pensa più a te. Infatti stai a vincere. Perché non lo ammazzo? Ehi! Amore! Mi hago una pregunta, padre. Se alguien mata, a dónde va? Seremo todos iguali a la hora della morte. Pulpabile o inocente. Ustino viene dentro. No. No! Ma che bucaria il tesoro? Mi chavo vuole per a mi casa. Mi chavo vuola per a mi casa. Non, non. Ma che bucaria il tesoro, mochò vuole per nero. Il che se vede. ' Grazie.